Abbiamo Roberto Biseli, direttore del Teatro di Sacco. Buongiorno. Senta, ci può parlare di cosa è stato il suo intervento al Fantasiti? Da una parte ho realizzato un evento, diciamo, di tipo teatrale, ovvero sia un'occupazione urbana della città attraverso tre action mob che hanno centrato tre problematiche interessanti intorno a cui Fantasiti ha lavorato per questa edizione 2012, ovvero sia Destino, Morte nel pomeriggio e Il muro. Le ultime due, cioè Morte nel pomeriggio e Il muro, andranno negli spazi urbani, sabato pomeriggio e domenica pomeriggio. E poi questa mattina ho avuto il piacere di presentare il libro di due giovani autrici, che si chiamano La discesa dei luminosi, ed è un genere abbastanza inedito che si chiama archaeological, secondo la loro definizione, urban fantasy, ovvero sia un genere fantasy abbinato alla città urbana che però ha come sottofondo un elemento archeologico, ovvero sia quello della famosa profezia dei Maya che vuole che la Terra si concluda, concludere il suo ciclo, il 21 dicembre 2012. È stato interessante perché, come sempre, presentare un libro, specialmente dei ragazzi, è una cosa molto complicata e vanno trovate delle strategie, tra virgolette, teatrali di comunicazione, in modo che si suscitino anche attraverso interventi di tipo attivo, relazionale, gli interessi, perché molto spesso purtroppo nei ragazzi c'è l'idea che leggere, ahimè come tante altre cose, sia una cosa estremamente poco appetibile. Quindi uno dei processi fondamentali che noi operatori in generale dobbiamo cercare di fare è di attivare emozioni e interessi intorno a cose che vengono considerate, ahimè, vecchie. Senta, che cosa ne pensa del Fantasiti? L'idea è eccellente, ovviamente lavorare sulla giovinezza significa lavorare sul futuro e se noi non investiamo sul futuro, non investiamo sulla speranza che attraverso una promozione culturale più ampia, che sia il divertimento, che sia il gioco, che sia le azioni, che sia la danza, che sia la costruzione di progetti, non c'è futuro. La mia sensazione è che i progetti sul futuro però rimangano sempre un fatto un po' circoscritto, ma anche un progetto generale, un po' nel nostro paese, di attenzione verso quello che è al di là delle generiche circostante, generici concorsi, generiche opportunità. Cioè manca un progetto reale sulla gioventù. Come manca, tra l'altro, e secondo me è interamente connesso, un progetto sulla famiglia. Allora, non si può parlare di famiglia se poi non si incentivano le famiglie a costruirsi e consolidarsi, non si può parlare di giovani se non si dà loro la responsabilità delle azioni. È anche vero, e questo va detto, che la maggioranza dei giovani, essendo astuti, e tutti lo siamo stati, declina la responsabilità. Cioè preferisce dire, ma non è colpa mia, non è mai colpa mia. Lì bisogna intervenire, perché non è tanto sulla catastrofe, non so, il ragazzino sulla Jaguar del padre che si sfascia contro il muro, che c'è il problema. Il problema è a monte, sul perché questa generazione o questo ambito complessivo tende a non trovare un'identità forte e a non sognare. Come a non cercare il mistero, che è l'elemento fondamentale della vita, di cui, tra l'altro, la discesa dei luminosi parla ampiamente.